Buongiorno, buona mattina, buon sabato mattina a tutti voi, siamo qui in diretta come sempre per Occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV che vi presenta un po' i quotidiani in edizione locale, Carlino e Corriere Adriatico con le loro notizie principali, cose che poi troverete naturalmente in edicola, che approfondirete e vedrete anche tutto il resto, noi facciamo così un sorvolo sulle principali notizie. Ma come sempre partiamo dall'inizio, vediamo le previsioni del tempo e il santo del giorno per oggi che è sabato 5 novembre, la Chiesa osserva il beato Chiara Maria Conforti, il sole è sorto alle 6 e 49 e tramonterà alle 16 e 54. Previsioni del tempo che diciamo subito non sono assolutamente eclatanti e confortanti perché insomma vedete, quando ci sono molte didascalie e molte nuvole non è un granché, infatti vedete sul crinale appenninico addirittura compare la pioggia e sulla costa vedete questa variabilità parzialmente nuvoloso con addensamenti maggiori nei settori interni e centro-settentrionali. Le precipitazioni ci sono, diffuse però nei settori montani e centrali e anche attività di rovesci, le temperature però salgono. Per domenica se fosse possibile la situazione peggiora un po', vedete l'intensità, anche il grigio delle nuvolette è più intenso, scompare quasi completamente il sole se non forse nella provincia di Ancona, però insomma è quindi nuvoloso nei settori interni e anche nel resto della regione, fenomeni deboli e sparsi nei settori interni assenti altrove al pomeriggio, qui dice appunto la protezione civile, però insomma io non ci scommetterei e insomma sui settori interni a fine giornata potranno risultare moderate in graduale estensione verso la costa appunto le precipitazioni, le temperature in marcato aumento, quindi insomma per essere ancora quasi metà novembre, insomma le temperature non sono proprio in linea con la storicità. Per lunedì migliora un pochettino, vedete anche la colorazione delle nuvolette è leggermente più chiara, però la simbologia della pioggia rimane e quindi il cielo al mattino è parzialmente nuvoloso, addensamenti maggiori nei settori interni nel corso del pomeriggio, estensione della nuvolosità a tutto il territorio regionale, anche qui precipitazioni deboli locali, anche in carattere di rovescio, soprattutto nella fascia costiera durante la seconda parte della giornata, però ci sarà un'intensificazione e quindi vedremo un po' come si svilupperà il tempo nel corso della settimana. Allora, archiviata la questione meteorologica, passiamo ai giornali e vi faccio vedere subito il resto del Carlino, nella pagina appunto dedicata a Pesaro in primo piano si parla della vicenda del pizzaiolo e quindi anche qui grido di accusa della famiglia, ma perché l'avete dimesso, il legale dice, appunto virgolettato alla moglie hanno detto che c'erano malati più gravi, vedete nella foto il pizzaiolo e poi la sala d'aspetto del pronto soccorso di Pesaro. Il ricordo naturalmente della collega diceva questo ristorante, cuore e sapore, era anche suo, veniva a lavorare pure con la febbre, quindi grande attaccamento, grande amore per la professione, per la ristorazione e questo ragazzo adesso si dovrà capire il perché, quali sono le ragioni che hanno portato al suo decesso. Nell'altra pagina di Pesaro si parla di un episodio increscioso che è avvenuto nei giorni scorsi, due giovani hanno fatto del sesso sul sagrato della cattedrale e adesso interviene, parla il vicario del vescovo e dice si è persa la bellezza dell'intimità, la città deve riflettere su certi episodi, segnalato il fatto naturalmente a chi di dovere. Ancora nelle pagine del resto del Carlino, come vi dicevo in questi giorni la vicenda dei parcheggi blu che sono a pagamento senza soluzione di continuità, le proteste montano e si dice appunto ritirate la gabella, lo chiederà Crescentini in consiglio di lunedì e Varotti è furibondo per questo aspetto, modifica dell'orario decisa senza alcun avviso in aula e senza avvertire in tempo la cittadinanza. Passiamo a Fano, sempre rimaniamo con il resto del Carlino, oggi, ieri è stato portato in evidenza tutto il lavoro fatto dalla polizia locale, però oggi si festeggia un traguardo importante il corpo di quello che erano i vigili urbani, ora polizia locale spegne 153 candeline e quindi si fa un po' il bilancio. Nella foto vedete appunto il comandante Giorgio Fuligno tra i due vicecomandanti, Alessandro Di Quirico e Anna Rita Montagna e poi qui di fianco vedete gli agenti che sono stati premiati con dei riconoscimenti speciali per azioni nei quali si sono distinti tra cui anche l'arresto di un pluripregiudicato che aveva commesso il furto di un veicolo riconoscimenti a sei vigili. Bene, il touchscreen oggi fa un po' di bizze e qui nel Carlino ha evidenziato appunto i numeri che sono stati sciorinati nella giornata di ieri, 900 automobilisti stanati per mancate revisioni, calano però le sanzioni rispetto all'anno precedente, insomma il bilancio della municipale. Poi in testa di pagina l'incidente in A14, schianto, bulloni come proietti, tre feriti, uno accusa un malore. Se volete anche qui, insomma nel resto del Carlino Anna Marchetti riporta un po' tutti i numeri, il bilancio dell'attività della polizia locale. Poi la vicenda legata al processo dell'ex primario Gianfranco Franchi, l'accusa chiede tre anni ma la difesa ribatte, è innocente. Ancora rimaniamo nelle pagine del resto del Carlino, vi faccio vedere l'ultima, quella che guarda un po' anche al territorio, all'entroterra. Cartoceto si avvia a presentare la sua manifestazione dedicata all'olio d'oliva, Cartoceto d'op, si comincia in musica e si chiude con il rombo delle Ferrari, al via la quarantesima mostra mercato dell'olio e dell'oliva all'interno di questo contenitore che si chiama Cartoceto d'op, il festival, con un programma tutto ricco, non solo gastronomia, per la due giorni dedicata all'eccellenza della tavola, una delle eccellenze della nostra gastronomia, fiora l'occhiello di tanti produttori, insomma quindi è importante questo prodotto che ha non soltanto delle caratteristiche organolettiche alimentari importanti ma anche delle connotazioni salutistiche e quindi insomma preferiamolo a tanti altri grassi da poter utilizzare in cucina. Allora vi faccio vedere il Corriere Adriatico, adesso cercavo la prima pagina, eccola qua perché oggi il touchscreen insomma se l'è messa un po' come gli pareva lui ma le troveremo. Allora Corriere Adriatico, pagina di apertura, eccola qua, contro la paura del sisma aumentano le pollice casa, fenomeno naturalmente il rovescio della medaglia è anche questo, premi annuali fino a 1000 euro. Poi si parla anche del match della vis, match salvezza per il Fano, stasera va all'assalto del Forlì. E ancora vedete qui al centro pagina nella fotonotizia la mappa insomma dei comuni tartassati dal terremoto e poi anche qui richiamo allo chef morto, avvisi di garanzia, dice la famiglia lui voleva restare in ospedale, inchiesta aperta, si chiede giustizia, chiarezza scusate, il legale dice sospettiamo un infarto, lunedì ci sarà l'autopsia quindi per fugare i dubbi. Allora vi faccio vedere il lancio che c'era nella prima pagina, eccola qua, 1000 euro contro il sisma e qui elencati tutte le caratteristiche della pollice, la copertura, il pacchetto, il massimale, insomma c'è sicuramente una prospettiva per quanti vogliono proteggere anche la casa dal punto di vista del terremoto e quindi insomma però le compagnie assicurative fanno delle resistenze. Allora ecco ancora l'altra pagina, siamo però in quella di Pesaro, Pesaro in primo piano per il Corriere Adriatico, priorità alla sicurezza non bastano solo gli annunci, parla Andreoli che critica Ricci, non ci sono né fondi né progetti, naturalmente parliamo delle case, si parla anche di lavoro nelle pagine del Corriere Adriatico, i centri per l'impiego, 35 precari a rischio, alcuni lavorano qui anche da 15 anni, l'ufficio che aiuta a cercare lavoro ha un terzo del proprio personale con il contratto in scadenza e quindi vedete qui Simona Ricci della CGL, il sindacato denuncia il job, oggi dovrebbe essere uno dei primi servizi funzionanti proprio per chi insomma cerca lavoro e riqualificazione è un punto sicuramente di riferimento che è importante per tante persone. Poi andiamo con i festeggiamenti per il 4 novembre, abbiamo bisogno di coesione e solidarietà, a parlare è il prefetto Luigi Pizzi dalla piazza di Pesaro, dice appunto questo monito apertura del sindaco, Pizzi chiede identità, Ricci riforme per la democrazia, vedete la foto dell'alza bandiera, sempre un momento molto toccante e di grande impasse. Questo ve l'ho fatta vedere, andiamo nella pagina anche del Corriere Adriatico che riguarda la provincia, siamo a Piobbico, nuovo furto dei ladri, acrobati, ancora un inseguimento nella notte sotto la sottrazione e dopo la sottrazione di un Fiat Scudo. E poi in fondo pagina, ecco qui ve la evidenzio, iniziative sempre importanti, quelle della polizia e di segnalazione anche di questi furti perché di truffe, perché non se ne è mai abbastanza e allora come si fa? Bisogna essere, come dire, fortificati dal punto di vista della prevenzione. Anziani truffati, serie di incontri per difendersi, segnalati finti carabinieri e l'arma così spiega i trucchi da usare contro i disonesti. siamo a Montemaggiore, al Metauro, anziani presi di mira e raggirati e truffati a domicilio. Una piaga, una piaga sicuramente, anche qui nel territorio di Fano abbiamo più volte denunciato questi episodi, anche recentemente c'è arrivata la segnalazione di un nostro ascoltatore che la madre 87enne è stata raggirata con il trucchetto della finta assicurazione. Quindi insomma non se ne esce più da questa piaga. Allora andiamo nella pagina di Fano del Corriere Adriatico, niente asilo senza vaccinazioni, la regione adesso corre ai ripari. Ieri a Teatro della Fortuna si è tenuto un importante convegno dove c'era anche l'immunologo Burioni, che conoscete tutti perché è uno dei personaggi più mediatici in questo ambito, era presente, ha tenuto un intervento. Qui vedete Agostini, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione e Salute dell'Area Vasta 1, che era il referente scientifico del convegno, abbiamo intrapreso un'attività di counseling verso i genitori ostili. Volpini, il presidente della Commissione Sanità, annuncia un decreto appunto entro l'anno, quello delle vaccinazioni appunto che permetterebbero di accedere all'asilo. Una copertura delle marche scese all'80%, quindi sotto la soglia della pericolosità per evitare l'effetto di propagarsi di alcune epidemie che magari in passato erano state debellate. Allora, pace sindacale, ancora nelle pagine di Fano, per la fine di Carifano, l'assorbimento della banca locale nel credito valtellinese viene accompagnato da garanzie per il personale. Anche qui vigili più tecnologici e meno severi a Fano. Ecco il bilancio dei vigili urbani. In dieci mesi le multe sono calate del 14,5. Meno severi o automobilisti più disciplinati? Ma sicuramente ambedue le cose. Valcesano, quindi la pagina che guarda all'interno, si parla di Cronaca, cerca un camper ed è stato truffato. La paura del terremoto ha spinto un pergolese a trovare una soluzione su internet. Ho anticipato 300 euro, dice, e poi ho scoperto che il mezzo era già stato venduto altrove. Ancora nelle pagine che riguardano la Valcesano si parla di politica. Questa giunta adesso ci imita, Lucchetti, contro il cambio di Rotta. Siamo a Mondolfo, grazie per portare avanti il nostro programma, dice il capogruppo consigliare di Unica, Massimiliano Lucchetti, alla giunta Barbieri. Però insomma il capogruppo contesta l'adesione di Barbieri ai progetti che erano stati osteggiati. Vi faccio vedere le ultime pagine che riguardano Senigallia, quindi come sempre guardiamo anche cosa avviene nella città limitrofa. Si tiene una fiera in questi giorni a Senigallia, il mercato europeo, che apre subito con il botto, come si dice in questi casi. È una dicitura standardizzata ormai, qualsiasi cosa inizia col botto. Non si può iniziare con una festa, no, si inizia col botto. Va bene. Maialini infilzati negli spiedi. Il blitz dell'Asur in uno stand, vi faccio vedere la foto, ecco perché insomma in uno stand c'erano questi maialini infilzati allo spiedo che andavano arrostiti e insomma ha suscitato le proteste degli animalisti e quindi l'Asur ha fatto un blitz, però non è stata riscontrata alcuna irregolarità. Questo è un metodo di cottura, insomma direi anche abbastanza ancestrale, lo usavano anche i nostri avi. Ancora da Senigallia i poliziotti salgono in cattedra per vincere il bullismo online. Ecco, anche questa è una iniziativa delle quali non se ne hanno mai abbastanza per vincere questo fenomeno social e anche di vita quotidiana prevede di coinvolgere i ragazzi per metterli in guardia sui rischi della rete. Bene, questa era l'ultima pagina che vi facevo vedere con una notizia sicuramente costruttiva e importante. Grazie per essere stati con noi in questa ultima rassegna stampa della settimana o che i giornali torna lunedì mattina puntualmente alle 7.30 in diretta sempre qui da Fano TV. Grazie e tempo permettendo. Buon weekend a tutti voi.